16, 17 e 18 dicembre, tre giorni intensi e imperdibili nel piano nobile di Palazzo Bonaccorsi a Macerata con la mostra evento Essere Italiano, percorso artistico tra immagine e parola a cura di Ludovico Pratesi e David Migliozzi. La mostra inizia il 16 dicembre, venerdì 16 dicembre alle 18.30 con questa conferenza del professor Pratesi, si vede artisti i più importanti del panorama contemporaneo, da Vanessa Bicroft a Radi Martino, da Botto e Bruno a Goldiechiari e appunto il tema della mostra è Essere Italiano, ma c'è un'ambiguità in questo titolo Essere Italiano perché ovviamente è una riflessione sull'identità, sul tema dell'identità, cosa significa Essere Italiano, ma ancora prima la domanda va proprio alle radici dell'essere, che cos'è oggi un essere umano prima che italiano? La cosa che mi preme dire è anche quella del rapporto tra arte visuale e scrittura, perché oltre a questi importantissimi artisti sono stati invitati nove scrittori di qualità a scrivere 7.000 battute sul tema della mostra, Essere Italiano. Quali saranno gli appuntamenti? L'inaugurazione è venerdì 16 dicembre 18.30, poi si prosegue sabato, dalle 5 del pomeriggio ci sarà una maratona d'arte con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti, curata dal direttore, il professor Giorgio Marangoni e dalla professoressa Paola Taddei che proseguirà fino alle 10.00 e quindi la mostra sarà in concomitanza aperta dalle 5 alle 10.00 di sera. Per concludere domenica, dalle 5.00 ci sarà la parte letteraria di Essere Italiano, quindi ci saranno gli scrittori, ci sarà la lettura dei nove racconti con accompagnamento musicale di Biagio Liberati e andrà avanti anche domenica fino alle 10.00 con questa grande conclusione in cui proprio si indagherà il rapporto tra scrittura e arte contemporanea. Un appuntamento imperdibile, questo lo dico, ne sono fermamente convinto, chi verrà tra 20 anni potrà dire io dal 16 al 18 dicembre c'ero a Palazzo Buonaccorsi.